Un ben trovato ai nostri teleaspectatori. Un ben trovato ai nostri teleaspectatori, agli affezionati e spettatori del ciclo Economia prima e dopo, condotto da chi vi parla Alberto Di Martino e dall'amico collega Giuseppe Fischetti, collegato da Taranto. Con noi oggi ci sono anche due esperti ed esponenti del settore della formazione e della cultura in senso lato del termine, che sono Marco Del Rosso della Health Collection Institute. Buongiorno a tutti voi. Che saluto. E Giuseppe Piacente, che è il direttore di Secop Edizioni. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ecco perché a posteriori, dopo 16 puntate di dibattiti, di riunioni, di tavole rotonde, su cui abbiamo parlato del virus, sostanzialmente, dei settori colpiti dal virus, non ci rimaneva altro che parlare anche del canale principalmente utilizzato per affrontare l'emergenza coronavirus, che è quello della comunicazione. Prima di affrontare il tema della comunicazione con Secop Edizioni, invece, andiamo un po' più sul pratico e chiediamo subito a Marco Del Rosso qual è stato l'impatto del coronavirus sul settore della formazione. Faccio io una premessa, abbiamo la formazione scolastica, l'istruzione obbligatoria che si è ritrovata dall'oggi al domani a dover operare in modalità a distanza, con tutta una serie di problemi, incidenti, mancanze e quant'altro che andremo a discutere. E invece la formazione cosiddetta obbligatoria, quella cogente, in primis quella legata alla sicurezza dei lavoratori, che evidentemente non poteva essere posticipata più di tanto per legge, almeno credo che sia così. Marco Del Rosso, qual è stata l'esperienza e la situazione? Allora, la situazione attuale è che la formazione in presenza è stata autorizzata alcuni giorni fa, quindi da alcuni giorni a questa parte la formazione in presenza può essere erogata, non può essere erogata in modalità a distanza, quindi se c'è necessità di erogarla in presenza, può essere erogata dagli enti formativi, parlo dalla regione Puglia, ma si stanno adeguando anche le altre regioni italiane, può essere erogate in presenza, però abbiamo delle molteplici problematiche, problematiche legate soprattutto alla salubrità degli enti formativi e quindi degli ambienti, che devono essere consoli ad ospitare il personale delle aziende per erogare la formazione a distanza, difficoltà legate soprattutto al discorso che le attività produttive sono state autorizzate a riaprire il 18 maggio a scaglioni, diciamo il boom, c'è stato il 18 maggio, e le attività lavorative, quindi le attività produttive, tutte le aziende, parlo del tessuto imprenditoriale pugliese, in particolare quello che ci vede come attori, tutte le aziende attualmente devono produrre, non possono fermarsi e devono cercare di recuperare ciò che hanno perduto in questi mesi di lockdown, quindi è difficile per noi enti di formazione andare a creare delle aule formative per andare a derogare questa formazione. Ricordo che la formazione obbligatoria è stata, diciamo, è stata dato un periodo di vacazio alle aziende per quanto riguarda la formazione obbligatoria perché parte della formazione in materia di sicurezza sul lavoro non può essere erogata se non in modalità in presenza, quindi tutto ciò che andava a scadere nel corso di questi mesi il governo è autorizzato a posticiparla nei mesi successivi, quindi giugno-luglio, si faranno delle classi formative per, diciamo, per colmare quel gap. Però attualmente stiamo avendo proprio difficoltà, siamo stati autorizzati a fare quella in presenza, stiamo avendo proprio difficoltà a creare delle aule perché non rispondono le aziende, aziende che capiamo perché vengono da tre mesi di lockdown, quindi non hanno un volume da fare, ovviamente sensibilmente più basso rispetto a quello degli scorsi mesi o rispetto, ovviamente, allo stesso periodo dello scorso anno dove non c'era, grazie a Dio, questa pandemia. Però, ripeto, la formazione è il motore, secondo me, di ripartenza in Italia e nel mondo, la formazione è il motore di ripartenza per sviluppare nuove competenze. Come è anticipato da te, Alberto, dall'oggi al domani tutti quanti i cittadini, quindi lavoratori, insegnanti, alunni, si sono trovati a delle modalità completamente differenti. Quindi la formazione ora è fondamentale per la ripartenza, fondamentale sia agli aziende che devono andare a sviluppare le competenze in se stesse, fondamentale per, faccio una banalità, per l'insegnante che si è trovato ad affrontare il periodo emergenziale, ma abbiamo visto, se ne andrà, diciamo, ci vorrà altro tempo per ristabilire la formazione in presenza, la formazione scolastica, in presenza come era prima. Perché no? Questo momento di crisi è stato un momento negativo sicuramente per la produttività, però potrebbe essere un momento positivo perché ci potrebbe essere una svolta per quanto riguarda la formazione che prima era un attimino più mirata a quella in presenza, piuttosto come l'e-learning. Ora tutti quanti conoscono i programmi, per esempio, di videoconferenza, conoscono le piattaforme di formazione e-learning. Io lascerei questo argomento per dopo, così proviamo a fare una disamina dei singoli elementi. Giuseppe, qualche considerazione che vuoi fare o aggiungere? No, io vorrei passare e tirare in causa Giuseppe Piacente con la sua storica Secop Edizioni. Chissà perché quando si parla di una casa editrice solitamente, e credo che non sia nemmeno sbagliato, si pensa ai libri. Libri, quindi libreria, quindi un luogo dove le persone entrano, personalmente a me è un luogo di perdizione, mi piace contornarmi e sentire il profumo della carta dei libri, ma quella della Secop Edizioni, perché oltre a essere un editore ha anche come suo riferimento un luogo che è una libreria che, più che essere tale come senso fisico di vendita di libri, è un luogo di relazioni, dove ci si confronta sulle tematiche dei libri, su tutta una serie di argomenti, quindi è un luogo di incontro e ovviamente in quanto tale è stato uno dei penalizzati, dei più penalizzati al pari secondo me di un luogo di somministrazione, di qualsiasi luogo ludico esistente. Allora, siccome poi vorrei approfondire questo aspetto, con Giuseppe Piacente mi piacerebbe un po' fare la domanda da Birichino, e cioè lui è stato un forte sostenitore del nostro progetto, cioè quello di portare la comunicazione dell'argomento dell'economia attraverso una formula che non è totalmente nuova, quella del web, ma lui ci crede tantissimo. Che cos'è che lo ha stimolato e che cos'è che lo ha convinto a perseguire questo progetto? Sì, sicuramente ci siamo trovati di fronte a una situazione paradossale. Noi quest'anno, tra l'altro, stavamo festeggiando i 15 anni della casa editrice, e quindi c'erano una serie di incontri preparati da realizzare in libreria per festeggiare questi 15 anni di lavoro nell'ambito dell'editoria. Ora, dalla mattina alla sera tutto è cambiato e come giustamente dicevi tu, Giuseppe, la nostra libreria non è un supermercato del libro, non è un luogo dove uno entra, sceglie il libro ed esce. Ecco perché secondo me la scelta di fare aprire le librerie è stata una scelta in parte giusta. C'è da trovare una soluzione come le librerie, come i luoghi della cultura devono ritornare a vivere. Ecco, quello che mi aggancio un attimo a quello che diceva prima Marco Del Rosso, c'è la difficoltà a trovare le aule dove espletare la formazione. Noi abbiamo la difficoltà a trovare i luoghi dove realizzare le presentazioni, perché abbiamo la necessità del confronto con le persone. Quando è venuta fuori l'idea di economia prima e dopo, immediatamente io ho pensato alla possibilità di portare quest'idea sul web, grazie anche a Radio 00, però la realtà è che manca proprio il contatto umano, il luogo dove noi possiamo anche discutere, perché l'ottimo lavoro fatto in questi due mesi, con le puntate di economia prima e dopo, e permettetemi anche di ringraziare tutti gli amici, numerosi amici che noi abbiamo avuto nel corso di questi due mesi, è stato un lavoro egregio, però ciò che è mancato è la possibilità del confronto con chi ascoltava, perché anche le idee che noi abbiamo sottoposto, le novità che abbiamo voluto dare tramite i vari suggerimenti così enunciati durante le varie trasmissioni, secondo me hanno la necessità poi di avere un confronto diretto con le aziende, con gli imprenditori e questo secondo me ci manca, dobbiamo lavorare per ritornare ad avere un contatto umano con tutti, questo è il mio pensiero. Ottimo, grazie, grazie a Giuseppe Piacente. Riprendiamo il colloquio con Marco Del Rosso, abbiamo detto che la scuola pubblica si è trovata di colpo a doversi inventare, se vogliamo, una modalità di insegnamento a distanza. E credo che questo abbia in qualche modo cozzato, diciamo, con l'orgoglio tipico dell'insegnante, del docente, al quale non gli si può assolutamente mettere in discussione il suo metodo di insegnamento, almeno questa è l'esperienza che ho. e quindi gli si possono a limite dare delle indicazioni di programma, cosa che fa il Ministero, ovviamente, che poi viene declinato nei piani di offerta formativa dei singoli istituti, parliamo appunto delle scuole pubbliche e paritarie, mentre non si possono mettere in discussione le modalità di insegnamento. Ecco, il fatto di essere andati direttamente in una didattica online ha in qualche modo messo con le spalle al muro, diciamo, tutta una serie di questioni e ha obbligato gli insegnanti a mettersi dall'altra parte della scrivania, cioè ad imparare un nuovo strumento. Ecco, la domanda è questa, Marco Del Rosso, è solo una questione di strumento tecnico, quindi imparare la tecnologia, oppure deve essere rivista anche la modalità di insegnamento, cioè cambia il modo con cui, diciamo così, la nozione o la formazione transita dal docente al discente. A mio avviso deve essere rivista tutta quanta la tipologia di progettazione formativa degli insegnanti. Non è solo questione di apprendere la modalità della formazione a distanza, quindi in videoconferenza. Tutti i loro programmi, ai quali loro sono abituati negli anni, devono essere rivisti e riadattati e riprogrammati per arrivare nel cuore del discente. Non possono semplicemente parlare davanti a uno schermo e trasmettere dei concetti, perché l'insegnante fa questo, non è lo scienziato o il filosofo che ha dei concetti, li ha per sé e non sa esprimerli, non sa trasmetterli. L'insegnante ha il ruolo di trasmettere ciò che lui ha preso, la sua esperienza, la sua cultura, deve trasmettere ciò che lui ha al suo allievo. Quindi ora si troveranno, si sono trovati nel corso di questi ultimi mesi, in enorme difficoltà, perché anziché avere i ragazzi davanti, e poterli trasmettere le proprie competenze, ora se li ritrovano davanti a uno schermo. Allievi che sono a casa, sono stati nel periodo di lockdown con fratelli, sorelle, mamme che stavano lavorando a casa, tutti quanti i genitori che stavano lavorando a casa, quindi con miliardi di difficoltà. Ora, ripeto, può essere un bene che in un momento così di forte crisi, insegnanti che avevano questi retaggi ormai obsoleti, perché parliamoci chiaro, la formazione e-learning non esiste da ieri, faccio l'esempio delle università telematiche in Italia, ce ne sono undici e hanno dieci anni di vita, tutti quanti dobbiamo adattarci a questo nuovo metodo di apprendimento. io stesso personalmente non frequenterei mai un'università telematica perché voglio il rapporto con il docente, il rapporto con gli altri colleghi che seguono lo stesso corso con me, però devo farmene io stesso una ragione, il futuro è quello, il futuro è la formazione a distanza, senza però, mi collego a ciò che ha detto prima Giuseppe Piacente, senza perdere la relazione interpersonale tra l'allievo e il discente, o come diceva lui, tra l'editore e l'autore del testo, l'autore del testo, e chi vuole acquistare quel testo e vuole acculturarsi. Bisogna trovare un metodo che vada bene per tutti quanti. Ci sono delle misure, ci sono delle modalità che possono essere espletate e devono essere sicuramente aggiornate, devono essere sicuramente riprogrammate per questo momento. Però, ripeto, insegnanti che nel corso degli anni hanno programmato la formazione, qua e chi tocca qual tipo di formazione, di erogazione della formazione a questi insegnanti, i programmi che hanno stilato nel corso degli anni, devono rivedere il loro modo di insegnare, anche se sono in là con l'età, diciamocelo chiaro. Ci sono insegnanti che hanno 60, 62, 63 anni e il rapporto con la tecnologia e con questo metodo innovativo che possono avere loro, non è quello dell'insegnante di 20 anni. Beh, è abbastanza estragnante come modalità, insomma, tutti quanti abbiamo dovuto adattarci. Certo. Magari ci mettiamo 5 minuti, ma comunque lo shock del cambiamento c'è. Lo shock del cambiamento, non solo verso lo strumento, ripeto, verso una modalità completamente differente. L'ultima analisi per quanto riguarda il mondo scuola, faccio un esempio banale. nel corso degli ultimi anni tutte le scuole si sono adeguate, faccio un esempio banale, ripeto, alla lavagna elettronica. Tutti gli insegnanti che prima non sapevano accendere nemmeno il PC, ora sanno usare la lavagna elettronica. Ripeto, è bene che venga fatto questo aggiornamento da parte del personale docente. Riprendo con Giuseppe Piacente. Dico, in questo periodo di fermo che c'è stato, senz'altro è venuto fuori un uso spasmodico della tecnologia. Non è che ce ne fosse bisogno, perché riprendo un po' un vecchio climb di una nota azienda, diceva People Connected, cioè la necessità dell'uomo di connettersi con altri uomini, quindi di comunicare. E in questo periodo credo che tutti lo hanno fatto, chi più chi meno, chi in modo professionale, chi in modo meno professionale, però abbiamo scoperto sotto questo profilo che la tecnologia è stata un grande vantaggio perché ci ha concesso di raggiungere dei posti che non potevamo raggiungere fisicamente per ovvie ragioni e di intervenire a molti anche di lavorare con il cosiddetto smart working da casa e quindi continuare nelle proprie funzioni rendendosi utili agli altri. Però c'è il rischio che questa scoperta, perché poi tale si è manifestata quando tutti hanno cominciato ad applicarla, rischia di soppiantare quello che è stato un percorso fino adesso e quindi se dovesse portare una condizione migliorativa nessuno avrebbe problemi, ma se tende a sostituire sarebbe davvero un grosso problema per certi ambiti e proprio in alcuni ambiti come quello della giustizia per esempio si è verificato, si è aperto un serrato confronto circa il fatto di poter fare i cosiddetti processi telematici un po' a distanza e chi era favorevole, chi è contrario, praticamente si motiva la differenza nel fatto che un conto è sviluppare le pratiche via telematiche, questo già avveniva nella fase dei processi, e un altro è comunque fare un processo perché manca quell'elemento umano in questa natura virtuale che è determinante per stabilire a volte anche se la persona è sincera o meno c'è un tentennamento, uno sguardo, un calo di voce è indicativo anche per completare la figura di colui che dovrà essere condannato oppure dovrà essere sciolto da qualsiasi cosa, quindi questo è un grosso rischio che si manifesta. Nel campo della cultura e soprattutto nell'ambito dei libri per certi versi è un po' la stessa cosa, un conto è leggere il libro, carpirne le emozioni attraverso la bravura dello scrittore, altro è quando si dà la possibilità di incontrare anche l'autore in una libreria e quindi questo aspetto come dire non fa altro che accrescere entrambi e sotto il profilo emotivico quindi chi legge e chi scrive ma anche nel confronto cioè il libro viene vissuto anche con una condizione postuma probabilmente la stessa situazione forse non fa nessuna differenza per testi di natura tecnica come possono essere quelli di natura economica che trattiamo noi la domanda che faccio è c'è una zuppa che si può combinare se nella tua esperienza di editore credi che questo sistema aiuterà incrementerà magari darà anche un'opportunità al fatto che le librerie soffrono come i giornali del calo di lettura oppure sarà un ulteriore problema che potrà far nascere delle difficoltà all'interno del comparto dunque parliamo più che una zuppa per me è una parmigiana io sono ho sempre dichiarato il mio essere contrario a questa moda di pubblicare a tutti i costi ho litigato con diverse persone quando ho negato la possibilità di pubblicare con la mia casa editrice perché secondo me noi pubblichiamo tanti libri parecchi inutili non ho paura a dirlo anche perché ci sono tantissime case editrici che pubblicano a pagamento e di conseguenza chiunque domani mattina diventa un autore diventa un poeta diventa un così un grande scrittore tutti i tanti all'Iglie infatti in questo periodo noi abbiamo assistito alla nascita di noi gli italiani è un popolo di poeti navigatori e anche di critici letterari tutti hanno acceso la telecamerina su facebook per presentare i libri abbiamo avuto dirette con tante librerie alle spalle il libro è diventato vitale io mi chiedo come mai fino al giorno prima i libri noi siamo in Europa l'ultimo paese per l'acquisto dei libri l'ultimo paese come lettori ora c'è una contraddizione allora se realmente il libro dobbiamo capirci è per noi essenziale allora dobbiamo imparare ad acquistare i libri a scegliere i titoli a scegliere gli argomenti che ci possono aiutare va bene abbiamo necessità di educarci alla lettura educarci alla cultura perché purtroppo ultimamente abbiamo smarrito un po' la strada abbiamo smarrito un po' questa necessità di formarci per fare le scelte migliori quando noi diciamo il coronavirus ci ha colpiti così non pensavamo non immaginavamo la realtà è che noi comunque in questi anni abbiamo assunto delle come posso dire delle pratiche che chiaramente in questi giorni ci siamo resi conto che ne possiamo pur fare a meno i negozi i grandi supermercati i permercati aperti la domenica quando prima la domenica era diciamo il momento della famiglia ci siamo resi conto che possiamo anche non andare la domenica al grande ipermercato la lettura di un libro quando per una vita molti hanno detto no ma io non ho tempo per leggere oppure leggo cosa il libro che passa in televisione il libro dell'attore di turno il libro del diciamo del calciatore di turno ora c'è una necessità di avere anche qui nei libri come nella formazione dobbiamo essere più attenti noi come secco pedizioni abbiamo proprio scelto questa linea andiamo a formare andiamo a realizzare dei testi a proporre degli argomenti che siano utili che siano essenziali anche nell'ambito dell'economia cerchiamo di dare una così delle nuove proposte cerchiamo anche questa nostra scelta nella puntata di giovedì scorso l'abbiamo anticipata questa economia antropologica allora c'è la necessità di conoscere di ritornare a leggere i libri per conoscere quello che ci serve nell'ambito lavorativo nell'ambito culturale nell'ambito della scuola ci sono tanti libri dove abbiamo la necessità di ritrovare alcune strade che abbiamo perso in questo periodo noi stiamo lavorando a questo progetto stiamo in questi giorni sulle nostre pagine facebook abbiamo lanciato dei nuovi titoli sia da un punto di vista di titoli di saggistica sia da un punto di vista della narrativa della poesia dell'economia a proposito ecco di economia noi in questi giorni sta uscendo questo nuovo libro di Antonio Stragapete appunto una visione di sviluppo perché abbiamo la necessità di ripartire guardando le possibilità che in questo momento stavano venendo fuori però partire dal nostro territorio territorio e capire bene cosa possiamo realizzare non sogni enormi c'è la necessità di ritornare con i piedi per terra di partire dall'uomo per correggere qualcosa che ci è sfuggita negli ultimi anni direi che questi sono consigli d'oro consigli d'oro però allargherei il campo non lo restringerei al libro in quanto libro stampato io farei un discorso basato più sulla cultura di cui la lettura è una parte e di cui il libro è un mezzo per arrivare alla lettura possiamo dire che con l'apertura dei supermercati del libro con la disponibilità anche di acquisti rapidi grazie alla tecnologia con i formati digitali ma soprattutto con la tendenza alle informazioni minute i famosi 144 caratteri di twitter oppure i messaggini con la storia che l'attenzione della persona è sempre di pochi minuti con il pretesto appunto come è stato detto che non si ha tempo che si ha di fretta che non si ha voglia e quant'altro ma se vogliamo siamo figli anche del consumismo occidentale possiamo dire che la cultura è stata mercificata quindi quello che prima era una crescita della persona se vogliamo intendere la cultura come quel bagaglio di conoscenze di emozioni che ci permettono di relazionarci con il mondo con noi stessi e con il mondo possiamo dire che questo tipo di rapporto è diventato appunto un oggetto di scambio e quindi è stato mercificato è oggetto del mercato dall'altra parte come prima si denunciava è venuta meno la relazione umana ma il problema della relazione umana è che la relazione stessa è un atto di cultura è parte della cultura e quindi se noi uniamo a questa onda lunga di mercificazione degli strumenti della cultura e dall'altra parte mettiamo come come botta finale il fatto che durante i tre mesi del virus tutto sommato chi ci ha rimesso di più è stata proprio la relazione e quindi sono stati cercati tutta una serie di alternative alla relazione ma il problema è la relazione che viene a mancare quindi la domanda un po' conclusiva che faccio a tutte e due ma chiedo anche alla collega Fischetti di intervenire se vuole è quali possono essere secondo voi secondo noi i modi e le criticità le idee che sicuramente possono confluire nel concetto di economia antropologica che ci possono aiutare a ritornare a un valore vero della relazione perché in essa crediamo che la persona possa svilupparsi appieno Marco Del Rosso per primo e chiedo di essere breve per lasciare tempo agli altri io penso che con questo periodo di lockdown ognuno di noi si è fatto un esempio di coscienza penso che ognuno di noi abbia appreso quanto è importante la relazione interpersonale con gli altri e penso che anche se l'uomo l'italiano in particolare ha una memoria breve penso che ognuno di noi dopo questo periodo riesca rafforzato da questo punto di vista io mi rifaccio brevemente a ciò che ha chiesto prima Giuseppe Fischetti per il discorso giustizia quindi fare un processo online piuttosto che un processo fisico mi rifaccio a tutte le relazioni con i colleghi di lavoro piuttosto che con i clienti tutti quegli sguardi l'empatia tutto quello che si si manifesta in un incontro tra due individui è completamente diverso a ciò che si può manifestare davanti a uno schermo però non nego che la modalità a distanza può alleggerire il lavoro di noi faccio un esempio banalissimo trasferte di lavoro enormi per parlare 5 minuti con un cliente tutto ciò che ne comporta può essere ridotto in una telefonata Skype di 20 minuti però non c'è rapporto interpersonale è un enigma cerchiamo di di lavorarci per per arrivare a una soluzione concreta buona per tutti quanti voi Giuseppe Piacente sì io sinceramente Alberto sono così in attesa spero di questo scatto di reni da parte di tutti tra l'altro a proposito ecco di questo nostro progetto di economia prima e dopo che comunque si inserisce in un progetto generale che la nostra casa editrice sta portando avanti un progetto che coinvolge non solo l'economia coinvolge anche la letteratura l'arte la pedagogia coinvolgendo tantissimi amici che in questo momento ho dato la possibilità di ringraziare da Enzo IV ad Antonio Catalano a Giuseppe Sblano Vito Di Chio Francesco Bellino ci sono tanti amici che stanno lavorando su questo nuovo progetto come naturalmente a te Alberto e a Giuseppe Pischetti e possiamo anche dire che il frutto di raccoglieremo anche in quaderni ecco di educazione anche queste puntate che noi abbiamo proposto su Facebook come in collaborazione con Marco Del Rosso con la Health Collection stiamo vedendo di studiare una nuova formula di formazione per la crisi di impresa che ci siamo resi conto che è mancata in questo periodo e quindi di conseguenza studiare anche queste formule nuove per aiutarci a superare il momento spero che per settembre saremo in grado di ripartire in una dimensione diversa possiamo ritornare ecco a incontrarci la mia volontà è che questa questa idea di questo format possa diventare anche una trasmissione televisiva che potrà registrarsi all'interno di aziende per far vedere poi al pubblico delle realtà reali reali cioè far toccare con mano non solo quello che viene fatto in televisione con i lustrini ma dobbiamo cercare di mostrare le realtà che giornalmente esistono nel nostro territorio e anche a livello nazionale ma resto io a questo punto e sai benissimo che sono di parte Alberto quindi affrontare il concetto antropologico e parlarne in termini di valorizzazione della persona non è un qualcosa che è nuovo per noi anzi abbiamo basato l'intero progetto dell'economia su su questo io dico che portiamo a casa da questo lockdown tantissime cose tante belle e brutte che esse siano è comunque sempre un'esperienza però una tra tutte e riprendo da quello che ho detto all'inizio dal famoso climb no people connected è vero noi abbiamo bisogno di essere legati di sentirci l'uno con l'altro di sapere che dall'altra parte c'è un altro essere che ci ascolta che ci emoziona che ci consiglia che ci aiuta a guardare le cose sotto un altro punto di vista con il confronto è vero uno dice può avvenire anche con un sistema telematico meccanico tecnologico ma non è sufficiente non è sufficiente perché noi quando facciamo determinate operazioni lo facciamo attraverso un processo che è quello della scelta e nella scelta ci sono le emozioni economicamente in ambito marketing a volte non si parla di acquisto di impulso l'ho comprato perché mi è piaciuto sul momento perché ho deciso che mi serviva perché e questo come avviene verso gli oggetti avviene anche verso le persone perché le relazioni sono anch'esse una parte importante di come condurre una serie di sviluppi della vita quotidiana lo è nell'ambito della formazione lo è nell'ambito della cultura lo è dappertutto quindi soppiantare completamente la persona fisica attraverso l'utilizzo della tecnologia la reputo una grande sciocchezza come altrettanto sciocco non utilizzare la tecnologia allora Marco diceva che è un grande dilemma una grande scommessa ecco io dico che noi dobbiamo imparare a gestire tutto ciò che serve all'uomo nella giusta misura quando riusciremo a fare questo e in equilibrio con tutto il resto del sistema ecco io credo che l'uomo avrà fatto il grande passo come lo fece quando mise il suo piede sulla luna allo stesso modo bene io direi che abbiamo affrontato tanti temi purtroppo il tempo è poco perché sono in temi interessantissimi riguardano l'uomo riguardano l'antropos quindi ecco perché abbiamo richiamato giustamente ringrazio piacente per questo il concetto di economia antropologica cioè il concetto di uomo come uno dei fondamenti dei processi economici ma allo stesso tempo anche come il fine del sistema dell'ecosistema all'interno del quale l'uomo insiste e di cui l'economia è uno diciamo una delle istituzioni che servono proprio appunto all'uomo a migliorare se stesso e ciò che lo circonda e quindi nel migliorare se stesso è inevitabile che ci sia l'aspetto relazionale perché uomo o politico nel senso di uomo che ha bisogno di altri e cerca degli altri io concluderei con una come dire una frase che ho sentito recentemente cioè virtuale è la comunicazione ma la relazione quella rimane reale e tale deve essere conservata detto questo io ringrazio i nostri ospiti Marco Del Rosso di Health Collection Institute buona giornata a tutti voi grazie ringrazio Giuseppe Piacente per la sua testimonianza ma prima ancora per la sua avvicinanza e l'affetto mostrato in questi mesi di confinamento grazie a voi per il lavoro svolto grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito sulle nostre varie puntate l'appuntamento mi raccomando ci blocchiamo solo per un paio di mesi però a settembre riprendiamo ma naturalmente continuano gli appuntamenti in radio vero Alberto e Giuseppe sì sì è vero è vero anzi grazie perché ci hai fatto come dire questo spot interessantissimo è vero sì prendiamo una breve pausa per riorganizzare gli incontri perché come ben sapete abbiamo avuto tantissimi ospiti nelle nostre trasmissioni in video streaming e di conseguenza adesso dobbiamo riprendere un po' tutti i contatti e quindi spesso non dipende soltanto da una nostra disponibilità ma giustamente anche da parte dei nostri ospiti che essendo nella maggior parte dei casi uomini che hanno ruoli politici istituzionali non è facile beccarli soprattutto in questo momento quindi faremo questa breve pausa in video ma continueremo attraverso le trasmissioni radiofoniche con una con una novità in più che vi faccio anticipare da Alberto altrimenti lui dice sempre che dico tutto io quindi di conseguenza no scusatemi se vi interrompo scusatemi però permettetemi anche di ringraziare Danilo Mingiruli che è il nostro supporto tecnico che ci segue in tutta questa baronda che abbiamo messo su va bene grazie a Danilo per la sua pazienza e il suo lavoro ecco quindi adesso sapete pure con chi ve la dovete prendere nel momento in cui sotto il profilo tecnico le cose non vanno nel verso giusto io ne approfitto per salutarvi e lascio l'ultima parola ad Alberto bene allora ricordo come è stato detto che l'appuntamento con noi sarà da lunedì prossimo quotidiano con una pillola di economia prima e dopo in cui daremo qualche breve notizia qualche flash qualche commento veloce sembra nel campo dell'economia in modo particolare dalla prospettiva dell'impresa rimane la puntata sempre radiofonico con due passaggi ore 10 ore 17 su ovviamente Radio W0 il sabato una puntata di circa 20-30 minuti che sarà di approfondimento sui temi della settimana come è stato detto metteremo su carta le testimonianze più interessanti che possono avere una valenza anche oltre il virus di ciò che sono state le puntate ben 16 puntate di economia prima e dopo per pubblicare un quaderno cioè un formato leggero e raccogliere spunti interessanti e poi probabilmente uscirà durante l'estate anche un nuovo lavoro che tratterrà in maniera un po' più dettagliata i temi dell'economia antropologica detto questo io ringrazio a mia volta anch'io di nuovo Marco Del Rosso Giuseppe Piacente Danilo Mingirurghi è l'amico e collega più amico che collega Giuseppe Fischetti e con questo arrivederci arrivederci a tutti e a presto a presto a presto a presto